Un saluto come state ben ritrovati, vi invito a iscrivervi qui sul logo L, lasciare un like e commentare. In descrizione importante, autorevole, che arriva dalla Spagna, nella fattispecie da Diario As, molto vicino al Real Madrid, alle cose del Real Madrid. Secondo cui il club di Florentino Perez è intenzionato a estendere il contratto di Brian Diaz, che è in presito al Milan, ma ha un contratto con le Merengues fino al 2025, prolungarlo e adeguare l'ingaggio come primo passo di inserimento nella rosa della prossima stagione. Tradotto, secondo Diario As, che ripeto è molto autorevole, il Real vuole riportarsi a casa Brian Diaz e pare non sia intenzionato dunque a discutere di una cessione a questo punto titolo definitivo al Milan dopo che lo ha prestato un paio di volte. Questo è chiaro che, se fosse vero, e ripeto, Diario As è molto vicino al Real, dovrebbe far cambiare i piani del Milan, che credo comunque possa anche aver già ben chiara la situazione. Anche se nei giorni scorsi abbiamo parlato di un'offerta che il Milan vuole presentare da 15 milioni di euro. Se il Real se lo vuole riportare a casa, credo che non ci siano i presupposti per una trattativa. A quel punto il Milan dovrebbe individuare un sostituto, visto che Brian Diaz quest'anno è il titolare del Milan sulla tre quarti, ha scavalcato il belga de Ketelare abbastanza subito e nelle rotazioni, sappiamo, non è nemmeno finito Adli, preso pochissime volte in considerazione. Vediamo che cosa succede, tra i candidati per sostituire Brian Diaz al Milan c'è O'Ar, parametro zero, dal Lione 25 anni e 30 giugno, e poi Samarzic dell'Udinese, profilo che il Milan già aveva provato a prendere, ma lui aveva preferito fare passi intermedi prima di fare il grande salto, in questo caso in un grande club. Piace molto a Maldini e a Massara. Vedetevi che cosa ne pensate, commentate qui sotto con il vostro punto di vista e iscrivetevi qui, ripeto, in descrizione molto, molto, molto autorevole da Diario As. Se confermata, Brian Diaz tornerebbe al Real Madrid. Mando un abbraccio a tutti, buon weekend e iscrivetevi qui, mi raccomando, attivate anche la campanella. Ciao! Grazie a tutti!